Dunque ci siamo dimenticati di dire che il Rettore ha incaricato naturalmente noi due docenti dell'Università di Modena Reggio Emilia di testimoniarvi la sua partecipazione e presenza, non poteva esserci e quindi già una settimana fa ci aveva segnalato questo. Bene, allora io parlerò di disturbi di apprendimento e di memoria di lavoro. Partiamo da alcune nozioni che abbiamo tutti chiare, però che è sempre utile rimettere in fila. La dislessia, l'Istituto Superiore di Sanità nel 2011 la definisce un bersaglio mobile, cioè una situazione che cambia e che quindi non è fissa. Una rappresentazione statica non rende l'idea. Successivamente anche il DSM 5 dice che è un disturbo dimensionale, che vuol dire per i non addetti ai lavori, che è una condizione che noi definiamo disturbo, ma che in realtà ha una continuità con la condizione tipica delle persone. Quindi non è un disturbo categoriale, come dire hai un'unghia incarnita, è un disturbo categoriale, ti fa molto male. E' un disturbo dimensionale, quindi questo è molto importante in realtà, prima che venga recepito dall'ICD10 ci vorrà tempo. Per esempio la burocrazia dice, no no, rientra nel codice F81.0 sì o no. Questa è una dimensione categoriale, ma dire che tutti i dislessici sono diversi e che soprattutto l'espressività di una difficoltà di lettura cambia a seconda sia del tempo ma anche dei compiti che vengono proposti, questo è dare la giusta dimensione al problema. In età adolescenziale adulta la dislessia tende, cosa ho fatto? Ho sbagliato il coso, a cambiare faccia. Perché se tutti siamo d'accordo sul fatto che nella scuola primaria c'è una lettura stentata, c'è una lettura spesso inaccurata, accompagnata di solito da difficoltà di scrittura, il bambino si esprime poco di solito nella maggior parte dei casi, anche perché ci si deve orientare rispetto a questo sforzo che sta facendo a scuola. Poi ci sono le difficoltà nel calcolo. Nella secondaria il panorama cambia. Cambia perché? Perché abbiamo una lettura più fluente. E quindi, mentre nella scuola primaria non c'è neanche bisogno di uno specialista per capire se un bambino è troppo lontano dal gruppo, quando tu senti leggere un adolescente il più delle volte, uno che legge tre sillabe al secondo, dici vabbè, insomma, no? Quindi ci vuole una competenza specifica, ci vuole una condizione specifica. Poi non fa più errori, mentre quello che colpisce l'ascoltatore inesperto, fra virgolette, sono il numero di errori che fa il bambino nella primaria. Poi l'ortografia è più corretta, c'è una maggiore capacità di esprimersi verbalmente. Quello che fa irritare gli insegnanti è che i dislessici si difendono. Cioè, alla scuola media e superiore si difendono. Cioè, come dire, gli insegnanti vorrebbero che si comportassero sempre in modo così, sottomesso. Le difficoltà in matematica tendono a persistere. Bene, quindi cosa succede? Che in età adulta l'abilità non viene più ritenuta deficitaria. Io dico sempre, è quasi invisibile. Quindi è molto difficile per un insegnante di scuola media e superiore capire che c'è un problema. Non è facilmente evidenziabile con i test utilizzati per l'età evolutiva. Questo Enrico Guidoni lo dice da tanti anni, essendo persona che si occupa di adulti. E' vero, perché i test di lettura, diciamo che l'abilità di lettura diventa, per gli scolarizzati naturalmente, quindi dopo 13 anni di scuola, un compito talmente automatico che le differenze individuali sono minuscole. E quindi lo scostamento dalla media, anche piccolo, determina una distanza che viene utilizzata alla fine per dire che è dislessico. Poi magari non è dislessico, è lento a parlare, supponiamo. La sua velocità di speech è lenta. Tuttavia l'adulto denuncia affaticamento eccessivo e difficoltà di memoria. Queste sono le principali caratteristiche del dislessico adulto e per adulto intendiamo anche lo studente di scuola media e superiore, ovviamente. Entrambe queste condizioni sono però difficili da misurare. Ora, affaticamento, come dimostrarlo? Proprio l'altro giorno ho visto un libro che ha scritto Giovanni Berlucchi insieme con un altro collega, Agliotti, intitolato Neurofobia, non so se l'hai visto, è uscito abbastanza recentemente, non recentissimamente. Ma cito Berlucchi perché con lui parlai diverse volte qualche anno fa, è possibile tu che sei un fisiologo mostrare l'affaticamento del cervello? Lui mi dice ma non è possibile, bisogna trovare tecniche comportamentali perché un cervello affaticato ha un metabolismo sempre stabile, quindi non riesce a misurare niente con parametri oggettivi. E questo è un esempio, forse si vede meglio di quanto io non veda nel computer, è una prima volta che ben sette anni fa io ho incontrato questo ragazzo, 18 anni, mi ricordo perché era una situazione durante un master di esame in diretta. Viene un ragazzo di Quinta, liceo scientifico milanese, facciamo la valutazione, sembra non esserci niente di particolare, però al tempo stesso non è proprio fluente, eccetera. Alla fine mi viene in mente di fare una prova di scrittura in soppressione articolatoria, ancora non si era mosso il lavoro in quella direzione, adesso abbiamo degli strumenti. Vedete cosa fa questo ragazzo? Sulla sinistra c'è la scrittura, io non l'ho ingrandita, è una foto presa sui due fogli alla grandezza. Quindi lui scrive correttamente giornale, ragione, pensiero, pugnale, rischio, scherzo, qualcosa, orgoglioso, sciopero, equivalente, rampicante, righello, scimmia e scoiato. Se andiamo a vedere cosa scrive in soppressione articolatoria, comincia abbastanza bene, arriva pensiero e scrive pensiera, rischia, scherzo, qualcosa, sciopero, equilvate e così via. Quindi è chiaro che qui salta fuori un picco, già un problema. Questo ragazzo in una condizione di doppio compito mostra la corda, mostra le difficoltà. Ma qual è la condizione di doppio compito? Beh, sempre c'è una condizione di doppio compito a scuola. Si scrive per prendere appunti, si scrive per tradurre dei pensieri, si scrive per risolvere dei problemi, eccetera. E quindi, per esempio, il gruppo del professor Cornoldi, parlerà dopo, ha messo a punto, proprio partendo dalla stessa constatazione, lui stesso qui lo disse, no? Gli studenti universitari, se tu fai una prova di dettato di parole o non parole, non si discostano da quello che fanno gli studenti, scusate, gli studenti universitari dislessici, non si discostano da quello che fanno gli studenti universitari non dislessici. Dopodiché, però, dice, quando fanno i compiti iscritti all'esame, riempiono di errori. E da lì è venuto fuori, appunto, il compito di scrittura in soppressione articolatoria. Quindi, l'affaticamento. Certo, non è altrettanto facile dimostrarlo nella lettura, adesso si stanno facendo anche lì un po' di studi e di ricerche, ma insomma, non è di questo che parlerò. Parlerò dell'altro aspetto dell'affaticamento, cioè della memoria. Perché noi ci sentiamo spesso dire, dai genitori e dagli studenti, ma più spesso dai genitori degli studenti, ma io non mi ricordo, lui non si ricorda dopo che ha studiato. Ed è facile da parte degli insegnanti liquidare la questione dicendo non hai studiato abbastanza. E quindi questo ancora una volta oscura una problematica, si dice, cioè sei pigro in sostanza, no? Non hai studiato abbastanza. Ma quando parliamo di memoria, perché la memoria è un sistema molto complesso, io qui cito due aspetti della memoria. La memoria di lavoro, di cui si parla tanto, spesso senza sapere di che cosa si tratta, ed è quella di cui parlerò prevalentemente oggi, è la memoria episodica. Perché cito la memoria episodica? Perché la memoria episodica è la memoria più sollecitata a scuola. E cioè, più sollecitata esplicitamente, perché la memoria di lavoro in realtà è più sollecitata. Ma nessuno lo sa, l'insegnante non lo sa. Mentre l'insegnante che chiede i 40 verbi dell'inglese, o le date, o che chiede, che ne so, le regole grammaticali, o che chiede a memoria delle definizioni, sollecita la memoria di lavoro. Tenete conto del fatto che la memoria di lavoro, questo andrebbe rivolto agli insegnanti, fra i sistemi di memoria a lungo termine, che sono quattro, è il tipo di memoria più fragile che esiste. Perché è quella soggetta all'oblio. Mentre la memoria semantica non è soggetta all'oblio, è meno soggetta all'oblio. La memoria procedurale, non ne parliamo. La memoria autobiografica, per quello che serve, ma serve, serve molto, anzi, anche quella è meno soggetta all'oblio. La memoria episodica, invece, è la più soggetta all'oblio ed è quella che viene sollecitata maggiormente. Questo è un esempio di memoria episodica, no? È una prova di apprendimento verbale che, in qualche modo, simula una condizione che a scuola si replica frequentemente. Ripeti più volte una sequenza, fino a quando tu non la impari. Allora, noi adesso abbiamo cominciato a studiare questi aspetti negli studenti perché abbiamo verificato che ci sono molte difficoltà, che si trovano studenti che hanno difficoltà in queste prove. E' chiaro che loro sono studenti che non riescono a, che appunto mostrano fatica a seguire il percorso scolastico per qualcosa di invisibile, che non viene colto, una difficoltà di apprendimento verbale. Ma che cosa ci dicono le neuroscienze cognitive sulla natura di questo tipo di memoria? Perché è molto importante. Allora, c'è una distinzione netta fra memoria episodica e memoria di lavoro, sulla quale vorrei che riflettessimo perché è un po' il nucleo centrale del mio contributo breve di oggi. La memoria episodica viene considerata come weight-based memory, cioè qualcosa che pesa, perché le configurazioni neurali che sostengono la memoria episodica sono relativamente stabili e permanenti. E la forma, fra virgolette, di queste rappresentazioni coincide con la forza del peso delle connessioni neurali. Ora, qui non è un convegno in cui si può entrare troppo nei dettagli tecnici, ma Kandel ha dimostrato che il nucleo cellulare cambia la sua struttura quando riceve un'informazione ripetuta. All'inizio lo stimolo rimane nella superficie cellulare, poi modifica la struttura del nucleo. Cosa vuol dire? Che i nodi si legano in modo forte il peso per l'appunto. Quando si dice che la forma di queste rappresentazioni coincide con la forza del peso delle connessioni neurali. Quindi è vero che in teoria, nello sviluppo tipico, più io ripeto, più io consolido un nodo di rete. Però, anche se queste rappresentazioni sono presenti, quindi io ho nella mia network neurale delle potenziali configurazioni, ne diventiamo consapevoli solo quando abbiamo la necessità di recuperarle. e questo lega il rapporto tra la memoria episodica e la memoria di lavoro. Perché mentre la memoria episodica, ripeto, è weight based, cioè fissa il peso, la memoria di lavoro è invece activity based, e cioè è basata sull'attività, ovvero sull'eccitamento dei neuroni. Allora, il rapporto tra la memoria episodica e la memoria di lavoro è che la memoria di lavoro serve per accendere delle configurazioni, adesso ne parlo in modo un po' schematico, che però si sono rafforzate attraverso dei processi di ripetizione, eccetera. Cosa fa la memoria di lavoro? Facciamo un attimo una breve definizione, ma dopo ritorniamo al principio. La memoria di lavoro viene definita come la capacità di mantenere in mente, ma manipolare informazioni per un breve periodo di tempo. È una capacità che è implicata in tantissime attività, ma soprattutto il suo ruolo nell'attività cognitiva e quindi nell'apprendimento scolastico tende a crescere nel tempo per l'aumento delle richieste ambientali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io spiego a un bambino di scuola primaria, sempre che gli insegnanti siano ragionevoli, non è detto naturalmente, che cos'è una penisola, gli mostro una figura e dico guarda che la penisola non è un'isola ma è attaccata alla terra da una parte. Ma se io invece, e qui non c'è il mio computer che mi consentiva di leggervi la frase, perché se la vedete è scritta, se io invece vi dico che una penisola è una formazione geografica consistente in un'estesa sporgenza di terre circondate per lo più da acqua e collegate alla terraferma soltanto da un lato, per ascoltare questa frase qui, ci vuole memoria, memoria di lavoro, bisogna tenere tutto acceso. Quindi è chiaro che l'inefficienza della memoria di lavoro viene rilevata in modo piuttosto scarso nel corso delle prime fasi della scolarizzazione. Viene invece non rilevata, perché non viene rilevata purtroppo, ma a essere molto più importante quando ci sono per il livello di scolarizzazione aspetti molto più complessi da processare. E qui stiamo parlando solo di ascolto e comprensione in ascolto. Non stiamo ancora parlando di comprensione del testo, di problem solving, eccetera. Stiamo parlando di un'attività che è stata svolta fino ad allora regolarmente. Ma quando si passa alla scuola media inferiore e improvvisamente tu ti trovi un insegnante che deve finire la spiegazione entro un'ora e poi cambia e ne arriva un altro che parla con un'altra strategia espositiva, eccetera, eccetera. Ecco lì c'è il collasso. Se la memoria di lavoro è inefficiente, il ragazzino non riesce a seguire. E l'insegnante dice che si distrae. Come dice Susan Gatterkall, che è una delle principali studiose della memoria, nessuno vi verrà a dire che i vostri studenti hanno un problema di memoria di lavoro. Verranno sempre a dirvi che c'è un problema di attenzione. Perché quando tu perdi l'aggancio, cosa fai, scusa? Chiudi audio e video, ti distrai. Se dico che hai la sindrome del mind-wondering è più elegante, ma il mio professore mi diceva Stella dove sei con la testa, punto. Voleva dire mind-wondering, ok? Bene. Allora, questa è naturalmente la rappresentazione della memoria di lavoro, che è un sistema più complesso. Questa è la memoria a breve termine verbale, questa è la memoria a breve termine viso-spaziale, ma poi la manipolazione delle attività vengono fatte da un ulteriore elemento. Ora, questo è il punto importante. Le configurazioni neurali rispetto alla memoria episodica sono più accessibili, ma meno permanenti. cioè sono, come vi dicevo prima, activity-based memory, si chiama così. E cioè, i neuroni devono essere sempre eccitati nella memoria di lavoro e propagano continuativamente il segnale ai nodi connessi. ma, se il livello di eccitazione cambia, cioè, se la mia, anche attenzione, cioè, si flette perché la frase è troppo lunga, l'informazione immagazzinata viene persa. Una delle caratteristiche della memoria di lavoro è questa. Cioè, l'overload della memoria di lavoro determina la scomparsa delle informazioni. Oh, vabbè, insomma, è troppo complicato. Comunque, questo è il rapporto, ovviamente, questo è Badley che dice questo è il rapporto tra la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine. Tenete conto che anche lui parla di memoria cristallizzata, cioè weight-based, detto in un altro modo, e memoria fluida, activity-based memory. Ma che rapporto c'è fra le due memorie? Beh, il rapporto, ve l'ho un po' accennato, è un rapporto, quindi, riassumo quello che ho detto, la memoria episodica a lungo termine è una memoria stabile, naturalmente nei soggetti efficienti, ma nella maggior parte dei soggetti, di cui però diventiamo consapevoli quando viene attivata da un'eccitazione che coincide con la memoria di lavoro, in sostanza. La ripetizione subvocalica è un modo per mantenere attivo l'eccitamento e le connessioni. Questo consente di recuperare le connessioni, di mantenerle attive e di difendersi dalle interferenze. Vi faccio un esempio, semplice, così ci capiamo. Se noi chiediamo a una persona di ripetere in ordine inverso una serie di numeri, prendiamone quattro, per esempio, sei, due, cinque, sette. Sei, due, cinque, sette. Allora la persona comincia a dire sei, due, cinque, sette, quindi cosa sta facendo? Tiene su l'attività, l'eccitazione per tenere lì i numeri, ma mentre fa così provoca delle interferenze. Comincia a dire sette, poi dice sei, due, cinque, non so nemmeno se sono quelli i numeri, va bene, i numeri sono scritti, sei, due, cinque, sette, due, due, ok, sei, cinque. E cioè, l'ultimo lo dice, perché, capite, questo è l'interferenza, questo è il problema di tenere su tutto il sistema, di contrastare, da un lato il decadimento provocato dal tempo che passa, perché è memoria a breve termine, dopo due secondi, se tu non ripeti, l'informazione va via. Dall'altro però ci sono delle interferenze. Allora, vabbè, lasciamo perdere i modelli, tutta questa attività è nelle aree prefrontali e quindi si sviluppa lentamente, ma in età adolescenziale dovrebbe essere completamente sviluppata. Ora, basta con la teoria, ho detto che vi dicevo quattro cose schematiche, però avete capito l'importanza di questo elemento. Ora, vediamo dei dati, pensate, questi sono, sono, avevo scritto anche il numero, fate voi il calcolo, insomma, 75 soggetti con disturbo di apprendimento. Guardate il loro quoziente intellettivo non verbale, cioè il quoziente logico sostanzialmente. Tenete conto per i non addetti ai lavori che la media è 100, 106, 99, 107, 104, 115. Questa è la loro memoria di lavoro. Mediamente come gruppo. Questa è la prima superiore, la seconda superiore, la terza, la quarta e la quinta. Quindi, molto spesso, non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi, i soggetti con disturbo specifico di apprendimento hanno una discrepanza significativa fra l'indice di ragionamento e la memoria di lavoro. Che vuol dire, come dico io quando cerco di spiegarmi con i genitori, che il soggetto ha un motore potente, ma organi di trasmissione per metterlo in atto non coerenti, non adeguati. Anzi, qualche volta, per esempio, l'altro giorno abbiamo visto uno, veramente, 138 di quoziente, 76 di memoria. Cioè, oh, ma 138 di quoziente è una Ferrari, ma 76 di memoria è una macchinetta di quelle senza targa. Si può mettere il motore di una Ferrari su una macchinetta senza targa? Oddio, si può, però va come una macchinetta senza targa. Allora l'insegnante dice, ma come, scusa, è un ragazzo intelligente e poi mi cade e è su, no? Eh. Vabbè, poi io metto sempre tanti grafici, non vorrei tediarvi con queste robe, no? Memoria di cifre, vedete, tutto sommato, eh, queste sono le due componenti che producono l'indice di memoria di lavoro. E voi, guardate, questa è la componente di magazzino e questa è la componente di, eh, riaggiornamento nella memoria, no? Sono abbastanza, insomma, coerenti fra di loro. Solo in questo gruppo che però è fatto di undici soggetti abbiamo delle capacità di riorganizzazione che sono maggiori del magazzino. Comunque, questo in sostanza per dirvi che oggi possiamo misurare separatamente questi due indici, no? E questo è molto importante per i motivi che vedremo fra poco. salto un po' di cose perché il mio tempo sta per scadere. È possibile potenziare la memoria di lavoro? È possibile? È possibile. Guardate, questi sono tre esempi che io vi presento di ragazzini che abbiamo trattato noi. Questa è una ragazzina che fa la seconda superiore. prima del trattamento la sua memoria di lavoro era 82, la memoria di cifre 8 e il riaggiornamento 6. Dopo 24 sedute, tre sedute alla settimana vuol dire 8 settimane post test passa da 82 a 91 e vedete che la memoria di cifre rimane lì ma la capacità di riaggiornamento si è potenziata. La cosa interessante è che dopo sei mesi in cui non si è fatto più niente la sua capacità di memoria di lavoro rimane la stessa o è leggermente addirittura migliore ma insomma rimane sostanzialmente la stessa. Guardiamo un altro caso questo maschio che fa la terza media con molte difficoltà eh sì certo ha 79 di memoria di lavoro e soprattutto ha 5 di ponderato nella memoria di cifre va un po' meglio nel nel riordinamento sì tempo scaduto ok ma sto terminando nella valutazione dopo 24 sedute vedete che ha preso 20 punti sostanzialmente e li mantiene dopo 6 mesi qui c'è un terzo caso in cui però ci manca la valutazione dopo 6 mesi perché non sono ancora passati e anche in questo caso vedete il miglioramento la cosa interessante è questa se noi andiamo a riprendere il maschio eccolo qua allora e prendiamo le misure le misure grezze della memoria diretta cioè la ripetizione di cifre ripetimi 5 8 2 4 vedete che era 7 e la ripetizione inversa 5 vuol dire che riesce a ripetere al contrario solo stringhe di due numeri e in un caso una stringa di tre numeri ma stiamo parlando di uno che fa la terza media quindi dovrebbe andare molto meglio dopo 24 sedute passa a 9 e 8 e nel follow up 9 e 9 quindi con un miglioramento molto significativo e guardate l'altro caso della ragazzina che passa da 5 a 7 nella diretta e addirittura da 5 a 9 nella capacità di dire al contrario i numeri cioè quella che vi ho esemplificato prima che richiede un impegno di attivazione della memoria di lavoro allora conclusioni quindi la memoria di lavoro è frequentemente inefficiente nei soggetti con DSA negli soggetti con DSA va bene volevo dire negli studenti poi ho detto no non è solo negli studenti quindi nei soggetti con DSA l'inefficienza però produce affaticamento frustrazione e tendenza all'abbandono del compito perché non riesco a tenere attivo il sistema per le informazioni che devo manipolare spero di essermi fatto più o meno capire oppure non riesco a tenere attivo il sistema per ripescare nella memoria cristallizzata gli elementi che li ho ma abbiamo detto che non sono consapevole di averli se non riesco faremo il prossimo anno mi impegno a fare il discorso sulla memoria episodica nei DSA perché è un altro argomento ma molto importante quindi produce ovviamente affaticamento e frustrazione e soprattutto siccome c'è l'overload si tende ad abbandonare il compito ma il ruolo della memoria abbiamo detto cresce con l'aumento delle richieste dell'ambiente e nella scuola superiore dell'università diviene un elemento decisivo per il successo decisivo sapete quante volte appunto ci vengono gli studenti a fare una valutazione perché i genitori dicono ma io ho fatto il giro delle sette chiese e forse è dislessico qualcuno dice di sì qualcuno dice di no perché siamo lì stiamo parlando di questo stiamo parlando di abilità compensate ma di un sistema che però non riesce a utilizzarle quindi la valutazione dell'efficienza della memoria è essenziale nel profilo funzionale degli studenti adulti e purtroppo non sempre viene fatto e quindi tu siccome hai una bella testa ma magari sono le gambe che non sono lunghe quanto servirebbe se non misuri anche la lunghezza delle gambe passatemi la metafora insomma per capirci non hai fatto un profilo non ti spieghi perché quello non corre veloce come tu vorresti in più la notizia buona è che il potenziamento è possibile e cambia le condizioni di efficienza e quindi la possibilità di successo sono stato un po' schematico vi ringrazio per l'attenzione e ne approfitto per ringraziare i miei collaboratori Maristella Scorza Elenia Canavesio Marta Puddu e Sara Tronati grazie per l'attenzione come? ah l'Eda sì scusate ecco giusto visto che ci siamo allora è già stato ricordato dal 21 al 24 settembre esattamente in questa sala si terrà il convegno della European Dyslexia Association è la prima volta che si tiene in Italia e quindi noi siamo molto orgogliosi di ospitarlo come Università di Modena e Reggio Emilia questo convegno si fa ogni tre anni prima è stato fatto in Svezia in Belgio in altri paesi dell'Europa quest'anno si farà in Italia non spaventatevi perché ci sono se cercherete e guarderete il programma che dopo magari cerchiamo di ritrovare fuori e metterlo un attimo per farlo vedere è sul sito di Unimore perché tutti i giorni ci sono più di una sessione in italiano naturalmente invece le lezioni magistrali sono tutte in inglese senza traduzione simultanea purtroppo perché questo richiede il convegno internazionale ma ripeto ci sono la maggior parte del convegno ha la possibilità di essere seguito anche da coloro che non conoscono l'inglese perché ci sono numerose sessioni in italiano poi l'ultimo giorno la mattina del sabato sarà tradotta anche perché lì comincia il convegno nazionale dell'associazione italiana dislessia lì vuol dire qui insomma quel giorno lì intendevo e quindi che continua il sabato pomeriggio e allora siccome c'è questa sovrapposizione in quel caso la European Dislexe Association ha accettato che i due relatori a invito di cui uno è il professor Cornoldi che però parlerà in inglese per la necessità ma verrà tradotto in italiano e l'altro il professor Karagiannakis che parlerà di discalculia quindi c'è questo grazie per avermelo ricordato questo impegno importante dal 21 al 24 settembre qui a Modena grazie